una signora insalzate ha detto e non ho pagato mille lire di biglietto per sentir cantare in scena la mia donna di servizio ed era proletariato contro la borghesia nel 64 mi ricordo che mi sembrava una voce un po stridula un po un pochino la bambina bambinesca pure quella voce mi chiamo catturino sono toscana e sto a Firenze il mio mestiere è di fare la raccarta canzone